l'acqua copre la maggior parte della terra per questo motivo il nostro pianeta è chiamato anche pianeta blu rende possibile la vita a molteplici usi bere lavare irrigare far funzionare le macchine produrre energia elettrica l'acqua è un solvente infatti in essa si sciolgono alcuni materiali l'acqua dà origine a soluzioni quando la sostanza solida si scioglie nell'acqua l'acqua d'acqua dà origine a sospensioni quando la sostanza solida si mescola con l'acqua ma rimane visibile l'acqua dà origine a sospensioni quando la sostanza solida si sciolgono alcuni materiali l'acqua dà origine a sospensioni quando la sostanza solida si sciolgono alcuni materiali dà origine ad emulsioni quando la sostanza liquida si mescola con l'acqua ma non si amalgama con essa l'acqua ma non si fromage a sospensioni l'acqua si presenta in natura in vari stati solido liquido gassoso si ricicla in continuazione e genera il ciclo dell'acqua il calore del sole fa evaporare l'acqua il vapore acqueo condensa in gocce che formano le nuvole le nuvole danno origine a pioggia neve o grandine l'acqua torna in superficie nelle sorgenti forma fiumi laghi mari durante il viaggio nell'aria e nel suolo raccoglie sostanze utili come i sali minerali ma anche sostanze dannose inquinanti dell'aria e del suolo musica 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 Grazie a tutti.